Un benvenuto a chi ci sta seguendo. Sono il professor Stefano Tomelleri, presidente del corso di studi in scienze dell'educazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali delle Università degli Studi di Bergamo. Perché iscriversi a scienze dell'educazione a Bergamo? Personalmente non credo ci sia un'unica ragione o un motivo più convincente degli altri. I motivi sono molti, personali, formativi, di opportunità professionale, culturali. Quello che è certo è che i nostri studenti al termine del loro percorso sono molto soddisfatti di averlo compiuto. Per noi questa è la soddisfazione più importante. Qui collegata con noi c'è la professoressa Anna Lazzarini, che è la responsabile dell'orientamento per il nostro corso di studi. Sono certo che anche lei è d'accordo e le passo subito la parola per illustrarci il nostro percorso di studi. Prego Anna. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Tomelleri per la sua introduzione. Sono Anna Lazzarini e oggi vi presenterò il corso di studi in scienze dell'educazione che si colloca insieme ad altri corsi di studi trennali e magistrali nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Prima di presentare il corso vorrei offrirvi, diciamo così, una cornice che è costituita dai temi e dagli approcci che sono al centro del nostro lavoro in Dipartimento. Il primo tema, il primo nodo è la complessità dei saperi. Noi sappiamo che gli oggetti dei saperi, come per esempio l'uomo, la cultura, la storia, la società, l'educazione, la natura. Ecco, gli oggetti dei saperi sono complessi, cioè sono costituiti di molteplici dimensioni intrecciate. Quindi possiamo per esempio studiare l'uomo attraverso la biologia, attraverso l'antropologia, la filosofia, la letteratura, la psicologia, la pedagogia, la sociologia e attraverso molte altre discipline. Per comprendere quindi oggetti del sapere così complessi è necessaria una integrazione delle dimensioni e delle discipline e dunque un approccio interdisciplinare e transdisciplinare che è quello che cerchiamo di proporre attraverso i nostri corsi. Il secondo tema, il secondo nodo che è al centro del nostro lavoro è sicuramente l'integralità della persona. La persona umana chiede infatti uno sguardo integrale, in grado di abbracciare tutte le dimensioni in cui la persona stessa si esprime, perché nella persona tutto si tiene e l'educazione, per venire al tema centrale del nostro corso è proprio quel processo volto a valorizzare, diciamo a far fiorire tutte le potenzialità della persona. Chiaramente un altro nodo fondamentale del nostro lavoro è l'attenzione e la cura per tutte le molteplici forme di fragilità e di disagio. Ecco queste rappresentano appunto le linee culturali, formativi che informano poi i profili professionali. Come vi dicevo all'inizio l'approccio metodologico è quello appunto dell'intreccio delle discipline, dell'interdisciplinarità, della transdisciplinarità. Ecco dal prossimo anno accademico anche la nostra università introduce il numero sostenibile e programmato. Perché questa scelta? Innanzitutto per poter garantire e migliorare la qualità della didattica, per garantire la sostenibilità di tutte le attività accademiche che sono molteplici e che andremo poi a presentare e per mantenere quell'attenzione alle relazioni con i singoli studenti che caratterizzano il nostro modo di fare formazione. Pertanto appunto vi dicevo è introdotto il numero programmato per tutti i corsi di laurea triennale e a ciclo unico. Una delle ragioni per cui è stato valutato come opportuno l'inserimento del numero sostenibile e programmato è stata la crescita addirittura oltre le nostre più rose aspettative del numero dei nostri studenti che nel 2018 ha superato la quota di 20.000 che ci eravamo posti come obiettivo per il 2020. il corso di studi in scienze dell'educazione è un corso di studi triennale, lo sapete, il presidente di questo corso di studi è il professor Stefano Tomelleri con cui avete già fatto conoscenza, la referente per l'orientamento sono io. Il numero programmato che è stato individuato per il corso di scienze dell'educazione è pari a 700 posti. Ecco ma entriamo nel vivo della nostra presentazione e quindi parliamo del percorso di studi e anche del profilo professionale dell'educatore. Per farlo consentitemi una piccola riflessione. Noi sappiamo che oggi le città e i territori si stanno confrontando con problemi sociali, con problemi economici, culturali, nuovi, per certi versi inediti e segnati da una significativa complessità. Ci sono situazioni diffuse di vulnerabilità e di disagio, crescita di povertà e di emarginazione nelle più diverse forme, molte difficoltà ad accedere alle cure sanitarie, nuove questioni poste dall'incontro e a volte dallo scontro di culture, mutamenti nelle relazioni intergenerazionali, trasformazioni delle sfide educative, frammentazione identitaria e sociale. Pertanto è in un contesto nuovo e appunto ricco di problematiche inedite che l'educatore, l'educatore sociopedagogico continua ad essere un protagonista decisivo della contemporaneità. Le funzioni e le responsabilità sociali cui l'educatore deve corrispondere appaiono oggi, consentitemi di dirlo, anche più urgenti e rilevanti, dunque rimane una figura centrale nel corpo sociale. Gli obiettivi che per queste ragioni il nostro corso di studi intende perseguire sono formare l'educatore in alcuni ambiti specifici. Innanzitutto nei servizi dedicati alla prima infanzia, nei servizi sociali e di comunità, nei servizi per il lavoro e per la formazione del personale sul lavoro, nei servizi educativi e assistenziali specifici per gli anziani e per le loro famiglie. E questi quattro ambiti corrispondono precisamente ai quattro indirizzi di cui si compone la proposta formativa del nostro corso di studi. Per entrare più specificamente nel dettaglio, l'educatore che lavora nei servizi della prima infanzia opera nei nidi, nei micronidi, nei centri dedicati alla prima infanzia, nei nidi famiglia e in tutti quei servizi sociali pubblici e privati per le famiglie con bambini. Attenzione, la fascia cui ci stiamo riferendo è la fascia 03. L'educatore che opera nei servizi sociali e di comunità è l'educatore che si muove, che opera nelle associazioni, nelle imprese, nelle comunità educative o terapeutiche per minori, per adulti, per disabili, nel settore del no profit. Questa è davvero una figura molto trasversale e capace di abitare molti moltissimi contesti. C'è poi il terzo indirizzo che è l'educatore nei servizi per il lavoro. Questo educatore opera in tutti i servizi pubblici e privati che si dedicano alla informazione, all'orientamento, al placement, a ogni attività di formazione e di aggiornamento, alla progettazione, alla gestione degli apprendistati, dei tirocini e ad ogni forma appunto di orientamento. Infine, l'educatore nei servizi per gli anziani opera nelle strutture socioassistenziali per anziani, come formatore anche in imprese pubblico-private, come animatore socioeducativo. Permettetemi di dire che nelle nostre società sempre più anziane questo educatore è una figura estremamente significativa ed importante. Ecco, al di là dei quattro indirizzi in cui si costruisce il percorso di studi dell'educatore, ci sono una serie di servizi che accompagnano la vita degli studenti. Mi riferisco in particolare all'accompagnamento personalizzato previsto per gli studenti lavoratori, che sono studenti accolti in modo particolare nei nostri corsi di studio. Mi riferisco anche alla presenza di spazi di studio e di una biblioteca assolutamente fornita e con spazi molto belli e accoglienti. mi riferisco al servizio di orientamento e di riorientamento, che riguarda appunto l'ingresso ma anche il percorso in itinere e in uscita degli studenti. Inoltre un servizio placement, il tutorato per il tirocinio formativo, poi su questo punto torneremo perché il tirocinio è un'esperienza assolutamente importante cui dedichiamo grande attenzione nel nostro corso di studi, il tutorato per studenti con disabilità, la presenza dell'istituto per il diritto allo studio universitario con una molteplicità di agevolazioni per gli studenti che ne hanno diritto, il centro universitario sportivo e la presenza di questa dual career app for sport che è un percorso specifico e più flessibile per gli atleti tesserati per le federazioni sportive. Quindi come vedete una molteplicità di servizi per tutti, davvero per tutti i gusti. Ecco, qual è il profilo formativo dell'educatore? Cioè che cosa sa fare, che cosa è in grado di fare l'educatore alla fine del percorso di studi in scienza dell'educazione? Quello che il nostro laureato deve sapere è innanzitutto far proprie teorie, metodologie e pratiche delle scienze dell'educazione perché deve saper elaborare, identificare, soddisfare le domande educative delle persone e dei contesti di vita personali e sociali. Il nostro laureato deve poter progettare e realizzare interventi educativi specifici, personalizzati, questo è un elemento molto importante, volti appunto al pieno sviluppo delle persone nei contesti dati e inoltre deve evidentemente coordinare e integrare i propri interventi educativi con altri professionisti nella rete delle relazioni familiari, sociali e territoriali previsti dal suo, dal suo intervento. Quindi come vedete un profilo molto complesso ma molto interessante. Naturalmente anche l'aspetto della internazionalizzazione è un aspetto molto importante nel nostro corso di studi e quindi non solo è necessario conoscere l'inglese ma è possibile avere riconosciute diverse certificazioni internazionali relativi ai livelli B1, B2 e C1. Un altro elemento interessante è quel programma che prevede l'esonero dalle tasse, fatta eccezione per la tassa regionale che è un obbligo per tutti, esonero previsto fino al 10% degli studenti per meriti particolari. Vuol dire che per gli studenti del primo anno che hanno ottenuto un voto di maturità compreso tra il 96 e il 100 è possibile avere l'esonero, per quelli del secondo anno che hanno una media del 28 e ottengono 40 crediti formativi entro il 10 agosto e per il terzo anno sempre con la media del 28 e devono aver maturato 100 crediti formativi. Inoltre è possibile anche avere riconosciuto l'esonero nel passaggio alla laurea magistrale se il voto della laurea triennale è compreso fra il 106 e il 110. Inoltre è possibile avere l'esonero anche per meriti sportivi. Come potete vedere i vincitori di medaglia d'oro ai campionati nazionali universitari oppure i vincitori di medaglia ai campionati mondiali universitari o universiadi possono avere diritto all'esonero. Ecco, diciamo che non solo il percorso di studi ma l'anno accademico è strutturato con una serie di appuntamenti, no? Per esempio i piani di studio sono disponibili durante l'estate, i programmi dei corsi sono disponibili e consultabili sul nostro sito a partire dal mese di luglio. L'attività accademica è organizzata in semestri, il primo semestre comincia da fine settembre e termina a dicembre con le vacanze di Natale, il secondo comincia da metà febbraio perché gennaio è dedicato agli esami e si conclude alla fine di maggio, prima dell'inizio della sessione estiva. Gli esami prevedono otto appelli, gli appelli sono nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio e settembre. Quindi come potete vedere c'è un'attenzione forte, diciamo dedicata non solo alla didattica ma anche alla verifica degli apprendimenti perché otto appelli sono davvero molti. Ecco un elemento che caratterizza molto positivamente il corso di studi e il profilo dell'educatore è la possibilità di accedere a prospettive occupazionali davvero incoraggianti. Il dato del 2017 è quello che ha visto più dell'81% dei laureati trovare un posto di lavoro a 12 mesi dalla laurea. Noi sappiamo, lo dicevamo nella nostra breve riflessione iniziale, che il profilo dell'educatore è un profilo molto richiesto, semmai il tema è quello di trovare la collocazione più giusta, più giusta per le vostre attitudini, per i vostri interessi, per le possibilità di esprimere le vostre potenzialità al meglio. Ma intanto per l'alta coerenza tra il lavoro che si trova e il titolo di studio conseguito e poi davvero per la grande possibilità di trovare occupazione, ecco questo corso ha dati davvero incoraggianti. Non solo, il nostro dipartimento assicura una intermediazione per il tirocinio extracurricolare, per l'apprendistato, per contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per gli studenti che ne faranno richiesta. Ecco, come vi accennavo prima, il tirocinio curricolare per noi è un momento molto significativo dal punto di vista formativo. Vedete infatti che sono garantiti al tirocinio 13 CFU, 13 crediti formativi e per un totale di 325 ore. Che cos'è il tirocinio curricolare? Il è la possibilità offerta allo studente di essere accolto in una realtà lavorativa che può essere un'istituzione, un'azienda, una comunità, una associazione, un ospedale, all'interno della quale poter osservare un processo di lavoro e prendervi parte con l'aiuto di un tutor universitario che viene messo a disposizione per seguire lo studente, un tutor garantito dall'ente che ospita il tirocinio dello studente e un docente supervisore. Di questo processo di partecipazione e di osservazione lo studente farà un'analisi riflessiva che sarà supportata dai saperi teorici acquisiti nell'ambito del corso di studi. Il tirocinio costituisce anche una preparazione in vista dei tirocini extracurricolari e di altri contratti di lavoro retribuito. È diciamo il primo ingresso nel mondo del lavoro, un ingresso evidentemente protetto dall'istituzione formativa che garantisce una serie di passaggi e di accompagnamenti. Attraverso il tirocinio curricolare c'è la possibilità anche di svolgere quelli che chiamiamo percorsi di tirocinio di eccellenza che prevedono una ampia coprogettazione di obiettivi e finalità fra l'università e gli enti che ospitano gli studenti. Infine la vita dello studente universitario nel nostro dipartimento, in particolare nel nostro corso di studi, è accompagnata anche da una serie di altre attività oltre naturalmente alla didattica. Ci sono incontri di approfondimento con esperti del mondo del lavoro, quelli che chiamiamo i seminari del lunedì, che consentono appunto agli studenti di incontrare il mondo del lavoro dentro l'università e di avere occasioni di confronto. Ci sono attività personalizzate anche come formazione a distanza per piccoli gruppi, laboratori anche a distanza di accompagnamento delle lezioni e laboratori, anche questi previsti anche come formazione a distanza, per la prova finale. C'è poi un accompagnamento, ve lo dicevo all'inizio, personalizzato per gli studenti lavoratori e attività didattiche a distanza per gli studenti in generale. Molte sono le attività comuni a tutti i curricula e diversi indirizzi, i laboratori esperienziali che sono trasposizioni nella pratica delle conoscenze teoriche, costruiti per gruppi di 20-30 persone, ogni gruppo seguito da un docente, prevedono apprendimenti, forme di apprendimento di tipo esperienziale e prevedono un confronto tra gli studenti del gruppo e con il docente valorizzato appunto come risorsa per costruire collaborazioni di studio e di ricerca. Ci sono poi attività appunto personalizzate per piccoli gruppi o a distanza che si precisano come attività di recupero e poi ci sono i laboratori per le tesi che sono dei laboratori volti proprio all'acquisizione degli strumenti metodologici, informatici e di ricerca bibliografica necessari per la stesura della prova finale che ogni studente svolge in autonomia ma accompagnato dalla guida di un docente. Ecco infine nella sede del centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento che è situato in via Pignolo 3, una delle nostre sedi, è attivo un ufficio placement a disposizione di tutti gli studenti del dipartimento. L'obiettivo di questo servizio è quello di sviluppare interventi che abbiano a cura diciamo la transizione fra l'università e il mondo del lavoro per i laureati dei diversi corsi di studi del dipartimento di scienze umane e sociali attraverso anche le opportunità offerte dalle politiche attive di regione lombardia. Mi riferisco in particolare alla dote unica lavoro e alla garanzia giovani. Sono pertanto attivati contatti con le agenzie accreditate per il lavoro, per la collocazione e per l'inserimento lavorativo. Ecco spero di avervi presentato e di aver soddisfatto diciamo le vostre domande ed esigenze. Vi ringrazio per la vostra attenzione e lascio di nuovo la parola al professor Tomelleri che risponderà alle vostre domande. Grazie e spero di incontrarvi numerosi nel nostro corso. Cara Anna, grazie per la tua presentazione. Le domande pervenute dagli studenti sono davvero molte e si riassumono in tre aree. La prima riguarda gli sbocchi professionali di cui ha già parlato ampiamente la professoressa Lazzarini. Aggiungo solo una breve riflessione. Il terzo settore è una realtà dinamica e in continua evoluzione. Il nostro corso di studi è pensato e progettato in stretta collaborazione con i protagonisti della società civile e questo proprio per rispondere alle nuove ed emergenti professionalità. La seconda area riguarda il test d'ingresso. E qui il mio invito è a consultare il sito di Ateneo dove trovate tutte le comunicazioni istituzionali relative al test. Infine un numero consistente di domande riguarda il percorso di tirocinio. Anche qui la professoressa Lazzarini ha già detto molto. Sottolineo solo l'importanza che per il nostro corso di studi all'apprendimento in situazione e la valorizzazione dell'esperienza personale. Per ora questo è tutto. Io vi auguro insieme a tutti i colleghi di scegliere con serenità e con determinazione perché il futuro che state decidendo in queste settimane è unicamente nelle vostre mani. Un caro saluto da tutto il consiglio di corso di studi di scienze dell'educazione. Grazie.